gnocchi patate viola panna da cucina gorgonzola latte olio di cocco menta buttiamo il nostro pezzo di gorgonzola buttiamo un pochino di latte buttiamo un pochino di panna facciamo sciogliere bene prendiamo una nostra patata viola e la buttiamo in acqua in modo che l'acqua assorbe tutti i nutrienti della patata e cambia di colore prendiamo il nostro olio di cocco e lo facciamo riscaldare una volta che il nostro olio di cocco si è sciolto buttiamo qualche fogliolina di menta a fiamma bassa olio di oliva aglio in camicia schiacciato saliamo buttiamo le nostre patate viola in pentola prendiamo un pochino d'acqua della cottura con la patata spruzzatina di pepe abbiamo raccolto la nostra mente l'olio di cocco e adesso frulliamo raccogliamo il nostro aglio raccogliamo le nostre patate viola frulliamo le nostre patate viola ributtiamo in pentola la nostra cremina di patate un tocchettino di pepe nero saliamo la nostra acqua prendiamo i nostri gnocchi e ributtiamo in pentola raccogliamo i nostri gnocchi un po d'acqua degli gnocchi sporchiamo il nostro piatto impiattiamo mettiamo sopra la nostra crema di gorgonzola una fogliolina di basilico buon appetito